Oggi inizia il patto per le periferie, per la città di Bari, con un atto concreto, l'avvio dei lavori del parco di Iapigia. Questo è un grande parco, 18 mila metri quadri, quasi la metà del parco di Largo 2 Giugno, una cerniera tra due pezzi del quartiere, un'oasi di verde all'interno del quartiere di Iapigia, che è il quartiere del mix sociale, quindi all'interno di questo parco ci sarà la possibilità di socializzare, ci saranno aree giochi, spazi per la socializzazione, un campo di calcetto e ovviamente ci saranno gli alberi, il verde, 225 nuovi alberi, 1500 piantumazioni. Si comincia da Iapigia, si proseguirà su tutti i quartieri periferici, giardini, parchi, aree pedonali, piazze, spazi per la socializzazione, per lo sport, spazi dove stare insieme, elementi di rigenerazione urbana che cercheremo di coniugare con la valorizzazione dei talenti e delle competenze dei giovani delle nostre periferie.